Eravamo viandanti, abituate a viaggiare verso qualcosa. Pensavamo di non avere più una meta, ma riflettemmo sul fatto che probabilmente conoscevamo più noi luoghi della Terra che non tante persone sicure di uno stesso porto. Comprendevamo che a ogni nuova riva era possibile ancorarsi e che questo può non essere così male se si conoscono i limiti e la forza della propria barca. In fondo aveva conosciuto le tenebre e ne era in qualche modo uscita. Aveva ricordato la sua infanzia, riappacificandosi con essa e aveva perso delle persone che aveva avuto il privilegio di conoscere. Cos'è quindi la rinascita? Se non la consapevolezza di aver tratto dalla vita sempre il buono, in fondo, secondo i propri tempi e le proprie possibilità, secondo le persone incontrate e i genitori avuti, secondo i compagni di vita e la gente che osserva dalla riva. Questo era il tempo della riconciliazione con se stessa e con il mondo intero. Un mondo dal quale, nonostante tutto, traeva il buono.